Debutto nazionale per Costa Discordia, Walter Nanni, Aspoltore Ensemble, uno spettacolo che fa riflettere la tua esperienza in Senegal. Un viaggio, raccontare alle persone questo viaggio che ho avuto la fortuna di fare in Africa, seguendo i flussi migratori, le storie dei senegalesi in particolare, e condividerle questa sera con le persone oltretutto della mia terra. Quindi occasione incredibile riuscire a fare un debutto nazionale, perché questo spettacolo l'avevo fatto solo in Belgio, davanti alle persone della mia terra, nella mia terra. È stato veramente un momento unico. Parliamo di questa tua avventura vera e propria nel cuore dei danni fatti dal colonialismo europeo. Beh, certo. Spesso ci sono tanti politici che dicono aiutiamoli a casa loro. In verità penso che dovremmo prima andarcene via da casa loro, perché il Senegal in particolare, che ho avuto la fortuna di conoscere, studiare, vedere, vive oggi una nuova forma di colonialismo per quanto riguarda il riso, perché la terra dove viene coltivato il riso è in realtà degli italiani e degli spagnoli, è il pesce con le multinazionali cinesi che di fatto per i prossimi 30 anni possono e potranno sfruttare il mare davanti alla carca, è uno dei punti più pescosi del mondo. Quindi in realtà il colonialismo e anche in parte la schiavitù in Africa non è ancora finita. Mi sono rimbattuto in spoltore nell'83 e ho fatto la proposta di poter far diventare questo piccolo borgo, insomma un mini festival, che poi insomma sarebbe dovuto crescere negli anni come è stato, fino a diventare, non soltanto per l'Abruzzo, ma anche per il centro Italia e forse anche oltre, uno dei punti di riferimento più importanti della cultura in Italia. Io ho stato più di 15 anni a Roma, ho fondato due teatri, il Teatro Intrasteve, il Teatro dell'Orologio con Mario Moretti, Fabio Bucci, Sergio Castellitto e tanti altri colleghi e amici carissimi, poi un periodo inglese, un periodo messicano a New York, insomma vabbè tanta roba che adesso ci vorrebbe tempo appunto per ricordarlo. E quindi poi è stato riversato tutta questa mia esperienza, i miei rapporti, i miei contatti, ovviamente, insomma hanno avuto il loro frutto qui a Spoltore. Grazie.